Innegabile inadeguatezza di sistemi di protezione ambientale e attività inquinante, volontaria e cosciente. Per i giudici del riesame non ci sono dubbi sulle responsabilità dell'inquinamento ambientale dell'area dello stabilimento dell'ILVA di Taranto, determinato nel corso degli anni attraverso una costante e reiterata attività per la deliberata scelta della proprietà e dei gruppi dirigenti dell'ILVA. Per i giudici del riesame di Taranto, Morelli, Roberto e Romano, bisogna fermare immediatamente le emissioni degli inquinanti. Ma l'impianto dell'ILVA potrà continuare a funzionare. Dovranno essere custodi a prendere la gestione dell'impianto e adeguarlo alle migliori tecnologie possibili, come impone l'Unione Europea, pensando alla spegnimento solo come a una delle scelte tecniche possibili. Questo è il contenuto delle 124 pagine depositate dal Tribunale del riesame che conferma il sequestro dell'impianto senza facoltà d'uso, ma traccia anche una strada per salvaguardare il diritto alla salute e il diritto al lavoro. Ma viene ribadito, così come sono adesso, gli impianti sequestrati sono pericolosi e necessitano di lavori di adeguamento.